E amici di Youtube, Pepino Audaccio, allora ragazzi, le due amichevoli Ah, la prima la perde il Belgio Ah, gioca Lukaku Teatro, c'è Doku Ok 3 a 0 adesso Ah, la Danimarca Italia vince Chelsea Spurs Chelsea secondo Andiamo subito Con il Chelsea Che vuole vincere il campionato Comunque è seconda Facendo Gran campionato Le squadre di Riccardo e Nicola Vorrebbe vincere la Premier Già il primo anno City Secondo me Oh, vincario Doji Williams Subito Chelsea in avanti Anche Williams è un gran giocatore Abbiamo visto un altro europeo Abbiamo visto un altro europeo Mamma mia Mamma mia buongiorno E' bello il gol Correa Chelsea non ci sta Chelsea non ci sta ragazzi Ho già aver pareggiato la Ho già aver pareggiato la U12 Ho già il sobissum Luzeschi Luzeschi son Di Lorenzo son Calcio d'angolo Ma meglio Il Tottenham Era partita meglio il Chelsea Palmer Zaccagni Ah Bravo vicario Olberga Ho già il suo Tottenham Comunque non molla Mamma mia Buongiorno Grilish Campo aperto Attenzione Palmer Eh la squadra La partita è bella La partita è veramente bella Poi Correa 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 fa male Correa è una bestia Due ore per il Tottenham Eh Ammonito son Buongiorno Cielso Od oggi Son Eh Ho impressione che questa la vinca il Tottenham Molto più forte 3 a 1 Buongiorno Incappo Chelsea Oh vicario Zaccagni Buongiorno 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 Poi pellegrini Zaccagni E poi vicario Che è il secondo nazionale Dopo Donnarumma Modric Zaccagni Zaccagni Zaccagnino 3 a 2 Che grande partita del Chelsea Ragazzi ho mollo un colpo il Chelsea C'è ancora una partita Da recuperare Hoiberg Grealish Jackson Palmer Berla per Zaccagni Che sta facendo una partita incredibile Zaccagni Punta l'uomo Zaccagni Per Jackson Vicario Gran partita di Vicario Pellegrini Pellegrini Zaccagni Palmer Van de Den Son Riparte il Tottenham Ma il Chelsea quando riparte A livello difensivo Una bella squadra Una bella squadra Jackson Vicario Un mostro Vicario Parte Zaccagni Doppietta Ma che giocatore Zaccagni Che giocatore Mattia Zaccagni 3-3 Sta illuminando Zaccagni Sta illuminando Zaccagni Corbi Mamma mia Kulu Lex Juve E Parma Buongiorno Di Lorenzo Palmer Palmer Chiede scusa Per le Azzaccagni O sonno Sonno Di Lorenzo Palmer Jackson Williams Jackson Jackson Vicario Coi piedi Mamma mia Che primo tempo Ragazzi Che primo tempo Tra Chelsea E Tottenham Una zero Del Liverpool Grealish Si è visto poco Grealish Vicario Chelsea Partito fortissimo Vodogia L'ogia Elso Ma mia Di Lorenzo Che partita Zaccani 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 Sonno Che partita La Pellegrini Modric E Grealish 4-3 Chelsea 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 è troppo forte Zaccani Zaccani Addison Chi era l'allenatore della Tottenham E' tornato al gollo Williams Allora dentro Castrovilli Dentro Casadei E dentro Bernardeschi Tre italiani Tre italiani ragazzi Lasciate palla a Correa Poi Bernardeschi Casadei Lasciate palla a Barley Sempre in casa Uson Son Ragazzi queste partite Per il Chelsea sono fondamentali Passa tutto Da questa partita Ma mia culo Pedro Porro Pedro Porro Casadei C'è una Correa Ma questo è un errore Hoelberg Si stanno Carnicola infuriato Ma mia Son Madison E qua fa un paratone Beppina audace Il migliore Migliore il portiere del Chelsea Son Son A casa dei Porta il Chelsea Attenzione Pedro Porro Ma c'era Jackson Rilish No Fuori gioco Per Bernardeschi Bisuma 9 minuti Per Vincerla Adesso Vincerla Un altro Derby Bravo Bravo Ragazzi Qua Eh ma il Chelsea Ragazzi Secondo me Può vincere La Premier League Secondo me Poi Jackson Jackson Ha fatto Troppi Goal Eh Il Liverpool Pareggia Quindi Un altro Punto Importante Per il Chelsea Che Stacca Il Liverpool Ma Ragazzi Si avvicina Al City Attenzione Andiamo a vedere United Sheffield Everton C'è Il Manchester United Arsenal Aston Villa West Ham Nottingham Forest Ancora Ancora Orare Però Beh Col Barley Ragazzi Dovrebbe arrivare La vittoria Poi Hai la Manchester United Perché se il Chelsea Vince Obiettivo Va Palmer 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 1-0 Ancora Palmer Ragazzi Grande Grande Campionato Di Palmer Williams Qua fa un gol Assurdo Williams 2-0 Per il Chelsea E Chelsea Ragazzi Se continua Così Obiettivo Premier E' a portata Direi Foster Rodriguez Attenzione Buongiorno Buongiorno Eh però Se non copre Buongiorno Ragazzi Si prende il gol Occhio Palmer C'è anche Pellegrini Si Pellegrini Non ha tirato male Si Eh comunque Il Borre Vuole vincere O perlomeno Pareggiare Altra punizione Mi sa che va Palmer Stavolta Palmer Gran parata Da lì Beh ragazzi Se Palmer Segnava Da lì 3-0 United City Non ha giocato Quindi Chelsea In prima Chelsea Prima Ragazzi Assurdo Eh ma Di un punto Eh Ragazzi qua Ci si gioca La Premier United Sesto Chelsea Può giocarsi La Premier League Può giocarsi Perché Secondo me È una squadra Forte Buongiorno Buongiorno Palmer Palmer Un'ana Ah C'ha provato Jackson Poi Casemiro Come si gira Jackson Sae che Riccardo Nicola Vuole Veramente Vincere La Premier Ma non so Se punta Le fake Up Palmer Palmer Jackson Chelsea Ragazzi Dalla prima giornata Gioca Forte Che poi Ha perso Con Liverpool Però Ha vinto Tutte e due Le partite Col City E per gli scontri Diretti Dovrebbe andare In vantaggio Zaccani 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 Olisè Olisè Vedate come va a coprire Bravo Di Lorenzo Che partita Di Lorenzo Sbaglia Bravo Martinez Eh qua è bravo Buongiorno Questi In serie A Vengono classificati Come falli In Premier No 3-0 Ragazzi Chelsea E' un'altra squadra Un altro gol Di Palmer Quanti le fa Secondo marcatore Palmer Eh c'è il gol Eh beh almeno un gol Deve fare 4-3 Attenzione Che rischia Chelsea Sheffield Uh più due Più due ragazzi A Sheffield Buongiorno E' a pezzi E' a pezzi Buongiorno Chelsea Chelsea in testa Ragazzi Più due Chelsea può vincere Il campionato Eh ragazzi Chelsea prima City secondo Cucu Cucu Bella Castrovilli Jackson Eh ma il Chelsea Ragazzi 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 E' più forte Del City In questo momento Merita La Premier Per come ha giocato Cari ancora ha detto Queste sono partite delicate Oh Castrovilli Oh Castrovilli Bisogna vincerle Giorbic Giorbic sicuramente ragazzi Palmer farà vincere mamma mia qua bravo pepino punizione punizione e va Palmer Palmer stavolta non la tira bene ancora vince al Chelsea 2 a 0 Chelsea che vola a 66 punti vince anche il City però però attenzione perché rimane a più 2 il Chelsea e adesso ragazzi una lotta contro il tempo quanto manca una due tre quattro cinque sei sette giornate sette giornate Riccardo Riccola vuole concentrarsi sulla campionato stanford bridge per Chelsea Everton sonno ok Jackson 33 Omninson Oland 24 33 gol per Jackson uno dei attaccanti più forti della Premier League Williams Williams sentite a Stanford Bridge si torna a cantare Chelsea Chelsea Jackson il Chelsea torna sul tetto più alto di Inghilterra che Guardiola ha detto sicuramente la squadra di Nicola è la squadra che ha fatto meglio in effetti è vero ha tolto ragazzi anche il mercato Jackson Williams Jackson Williams 3 a 0 è un Chelsea che già si prospetta ed è in modalità Premier League l'Everton ragazzi però non ha praticamente visto Jackson 2 assist e 2 reti 2 assist 2 reti Rete! 4-1 Eccolo Jackson City vince Ancora Più 2 ragazzi Eh sì Giorano sia al City che al Chelsea Quindi Eccolo Non so chi vince ragazzi Credo il Chelsea ma È leggermente più forte Si gioca a Wembley Chelsea comunque ha fatto un'ottima Fake up A Wembley Le squadre inglesi di Londra Si giocano una stracittadina Ah Ricorda per United Eh si sapeva lo tirava di là Pulizione Attenzione Palmar Prova Palmar Deviata Eh bravo Varun Occhio però Gran palla e mezzo Per Jackson Oh no no Probabilmente qua Oh no no Salvato la partita Punizione Punizione Eh ragazzi ma E' il rigore United Peccato ragazzi Per due rigori Mamma mia Dove l'ha tirato Quel rigore lì Dove l'ha tirato Ragazzi Dove l'ha tirato C'è anzi fuori In semifinale Si può concentrare In più sul campionato United in finale Cardinicola non la prende bene Eh si Voleva la finale Il tecnico pugliese Torna a perdere Eh anche il Uh Qui finale Fulham Manchester United Arsenal Chelsea Tante giornate Mancano Una Eh queste le più dure Eh il prossimo episodio Ripartiamo Con le ultime giornate Bella a tutti E pieno udace